A Pesaro Rocca Costanza riapre le sue porte alle visite guidate Mucillagini, i dati dell'ARPAM confermano la balneabilità delle acque Crolla pezzo di cornicione dalla prefettura, paura in corso 11 settembre Rimosso il cilindro dall'antenna della discordia di Fiorenzuola di Focara Capitale della cultura, scocca l'ora di Marotte Mondolfo Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di Rossini News Telegiornale di martedì 13 di agosto che apriamo con un nuovo importante capitolo di questo anno di Pesaro Capitale della cultura 2024 Questo 13 di agosto infatti contrassegna la riapertura di Rocca Costanza alle visite guidate Questa mattina le nostre telecamere sono state i presenti al primo tour guidato Di un percorso che punta ad una riapertura permanente di uno degli edifici simbolo della città di Pesaro Pesaro si riappropria della sua icona rinascimentale Rocca Costanza, chiusa dal 2019 Da oggi si apre le visite culturali guidate grazie all'accordo stretto dal comune con Agenzia del Temanio, Soprintendenza e Archivio di Stato La fortificazione della città progettata dall'architetto Luciano Laurana nella seconda metà del 400 Da questo 13 agosto diventa la tappa conclusiva del cosiddetto tour capitale Un tour che tocca luoghi culturali simbolo della città e che oggi ha visto riaprire le porte della Rocca Dalla sindaco e vice sindaco Andrea Biancani e Daniele Vimini in un percorso che riapre il bastione La corte interna della piazza d'armi, la cappella e le stanze attigue appena restaurate così come il torrione est Devo dire che in questi anni è stata chiusa anche perché mano a mano sono stati fatti dei lavori In quest'anno, in questo periodo la Rocca non aveva lavori e abbiamo deciso di aprirla In questo momento per 5 giorni a settimana, per 2 volte al giorno perché c'è il tour capitale che parte sia il mattino che il pomeriggio Rocca che fino a settembre sarà visitabile esclusivamente all'interno del tour capitale prettamente dedicato ai turisti Grazie al tour capitale riapriamo anche il teatro, teatro Russini e con questa nostra card capitale 2024 C'è la possibilità ogni giorno quindi per 5 giorni a settimana, 2 volte al giorno di partecipare a questo lungo tour Che comprende teatro Russini, Domus dell'Abbondanza, la nostra sinagoga, il museo della bicicletta ed infine appunto Rocca Costanza I pesaresi ad oggi possono prendere parte al tour capitale con i turisti ma in alternativa da settembre si pensa a formule di visita specifiche per Rocca Costanza Nel mese di settembre stiamo cercando di capire come far sì per rendere accessibile la Rocca anche ai pesaresi Ovviamente non in massa, sempre con un numero limitato di persone faremo sicuramente dei turni È un'occasione importante, questo non vuol dire che per i prossimi anni la Rocca sarà chiusa Il nostro impegno ovviamente la Rocca non dipende da noi perché la Rocca anzi vogliamo ringraziare sia l'archivio di Stato sia la sovrintendenza Sia soprattutto il Demagno che è l'ente proprietario della Rocca Noi abbiamo l'intenzione di riaprirla anche i prossimi anni A meno che non ci siano dei lavori particolarmente pericolosi quindi la convivenza delle persone che entrano con i lavori non è possibile Ma l'obiettivo è non chiuderla più perché la Rocca deve essere aperta Restano chiusi al pubblico gli spazi delle celle del carcere Funzione di penitenziario che la Rocca ricoprì fra il 1864 e il 1989 Resta comunque aperta un'inedita offerta di visita che non rimarrà confinata al solo anno di Pesaro Capitale della Cultura Però l'obiettivo che ci siamo dati insieme a Daniele da subito è dobbiamo aprire tutto Perché Pesaro se vuole essere turistica deve puntare sulla cultura E puntare sulla cultura vuol dire mettere a disposizione i beni che abbiamo Poi abbiamo beni privati che possono essere come può essere Villa Imperiale, come può essere comunque Villa Caprile che è comunque pubblico Quindi l'obiettivo è mettere in rete sempre di più questi beni Quindi come dire a Pesaro al momento ad oggi di accessibile non mi risulta che ci siano beni chiusi E cambiamo argomento e torniamo ad occuparci del fenomeno, delle mucillagini che non intende rigredire dalla costa pesarese Così come dal resto di buona parte del mare Adriatico Oggi però le analisi dell'ARPAM hanno rassicurato su come il fenomeno non interferisca sulla balneabilità delle acque Non si allenta il fenomeno delle mucillagini, non si fermano le analisi dell'ARPAM Che oggi ha ribadito attraverso un comunicato come il fenomeno non stia producendo interferenze sulla balneabilità delle acque marine Secondo ARPAM tutti gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate nei 207 punti di campionamento individuati dalla regione ad inizio stagione balneari Sono risultati conformi ai limiti di legge nel mese di luglio Allo stesso modo i campioni già prelevati in questo mese, effettuati rispettivamente il 5 e l'8 agosto sulle coste pesaresi e maceratesi Come da calendario prestabilito, sono risultati conformi ai limiti di legge confermando a sua volta la balneabilità delle acque in questione ARPAM sottolinea che la presenza del fenomeno delle mucillagini non è mai riconducibile, come anche negli anni passati, a interferenza sulla qualità delle acque di balneazione Le masse di materiale organico che si stanno formando in conseguenza di fioriture microalgali specifiche creano un evidente disagio ma non determinano un incremento di batteri associati ai reflui urbani che sono quelli che invece determinano la balneabilità delle acque come schericchiacoli ed enterococchi ARPAM ricorda dunque che il fenomeno naturale è cominciato lungo la costa adriatica centro-settentrionale a partire dalla seconda metà di giugno e oggi, dopo che il fenomeno ha toccato pure le coste croate, non si sta accennando ad una fase recressiva in quanto le mucillagini rimangono favorite dalla persistenza delle alte temperature e dalle condizioni marine stabili E fra i bagnanti che a Pesaro, loro malgrado, hanno dovuto anche oggi fare i conti con le mucillagini ha destato stupore la presenza di un fenicottero che è planato sulla spiaggia di Levante cercando di nutrirsi proprio sulla riva dell'acqua pesarese Ringraziamo i telespettatori che ci hanno inviato le immagini di questa curiosità Questa mattina attorno alle 10 pezzi di cornicione sono pericolosamente crollati a terra su corso 11 settembre dai piani alti del Palazzo Ducale della Prefettura Fortunatamente non vi erano passanti nel preciso istante del crollo Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco, le cui operazioni di messa in sicurezza di cornicione Pericolante ha portato alla chiusura di una porzione del corso per circa un'ora E torniamo ad occuparci dell'omicidio di mercoledì scorso avvenuto a Tavuglia in cui ha perso la vita il 37enne albanese residente a Riccione Dritan Idrizi che è stato ucciso a coltellate dal coetaneo reo confesso Arthur Cerria il cui arresto è stato confermato dal giudice dopo che l'arrestato aveva comunque ricordato di aver agito per legittima difesa in fase di interrogatorio Restano in carcere anche i due connazionali arrestati per lesioni gravi e coinvolti nella presunta spedizione punitiva nei confronti di Cerria Per il giudice sussistono infatti i pericoli di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove Intanto Cerria è stato trasferito dal carcere di Rimini a quello di Forlì per evitare, come da richiesta della difesa, contatti con parenti della vittima reclusi nello stesso penitenziario Sorpresa a Fiorenzuola di Focara dove è stata modificata la tanto contestata antenna di telefonia Iliad che da primavera 2023 ha deturpato l'aspetto estetico del borgo Alla vigilia di Ferragosto il borgo di Fiorenzuola di Focara vede sorprendentemente ridimensionato l'impatto della sua antenna della discordia Da ieri infatti la torre di telefonia Iliad che da un anno e mezzo è fortemente osteggiata da residenti e comunità del Parco San Bartolo per l'effetto pugno in un occhio su paesaggio da cartolina è stata spogliata di cilindro e copertura che l'avevano ribattezzata Cotonfioc L'antenna rimane dov'è ma con un effetto ottico meno invasivo Alla base della torre di telefonia collocata a pochi metri dal cimitero di Fiorenzuola campeggia un cartello con la scritta in pennarello sito in manutenzione firmato da Sirti che è la società leader nella gestione degli impianti di telecomunicazione Ad oggi non si conoscono le ragioni specifiche di questa rimodulazione che il quartiere San Bartolo definisce intanto un primo passo sulla soluzione di questa situazione per la quale si continua a chiedere la totale rimozione dell'antenna di telefonia da questo luogo Una rimozione per la quale dalla primavera 2023 si scatenò una mobilitazione fra cori di dissenso e raccolte firme oltre al via di un processo che ha portato poi al rinnovamento del regolamento sull'installazione delle antenne sul territorio comunale una battaglia che quartiere e comunità del parco vogliono continuare non accontentandosi del compromesso attuato in questo mese d'agosto E torniamo ad occuparci del caso della bonifica dell'ex AMGA in zona Porto di Pesaro una bonifica che prosegue ma a costi lievitati Prosegue il processo di biofitobonifica dell'area ex AMGA di via Morosini cominciato nel 2021 Continuano a crescere le 147 piante messe a dimora nel processo di epurazione della porzione residenziale fra Porto e Centrodirezionale Benelli che da anni convive con la rimozione di amianto dal sottosuolo inquinato Processo di bonifica che intanto vede però nuovamente lievitare i costi dell'operazione con il monitoraggio e gestione dell'inquinamento in capo a Marche e Multiservizi chiamato ad installare un nuovo impianto di pompaggio e trattamento in superficie delle acque di falda contaminate Un'operazione che aggiunge altri 155 mila euro per un costo della bonifica complessivo che tocca ora quota 4 milioni Bonifica è supportata da 676 mila euro di fondi regionali destinati però non solo all'ex AMGA ma anche al sito contaminato di Via Trometta così come all'ex Consorzio Agrario dove si attendono i risultati dell'analisi ARPAM per dare il via al progetto delle due torri da oltre 60 appartamenti bloccate da tre anni dal travagliato iter giudiziario che ha ingarbugliato Comune, Capitaniera di Porto e Società Costruttrice in una controversa vicenda risolta a novembre 2022 in favore della ripartenza del cantiere Ci avviciniamo al Ferragosto e nel prossimo servizio andiamo a scoprire un particolare appuntamento che miscela musica, danza e scultura e che si terrà proprio all'alba del 15 agosto all'imboccatura del porto di Pesaro L'alba di Ferragosto verrà salutata a Pesaro da una performance capace di unire musica, danza e scultura all'armonia del sorgere del sole un programma che dalle 5.45 del 15 agosto darà vita allo spazio in ascolto la voce della scultura quarta edizione del progetto di Wunderkammer Orchestra e archivio Loreno Sguanci che per l'occasione omangerà un artista simbolo del territorio come Eliseo Mattiacci e la sua stele riflesso dell'ordine cosmico Lo spazio in ascolto, la voce della scultura è una manifestazione che è giunta al suo quarto anno e nasce da un'idea e da un'intuizione di un amante dell'arte che è Gabriele Laghi che è socio della Wunderkammer, anche sostenitore e che ha deciso di cortocircuitare la Wunderkammer e l'archivio Loreno Sguanci per valorizzare il patrimonio delle sculture di Pesaro creando un dialogo tra differenti linguaggi artistici Un'alba all'ombra della scultura che si mescolerà ad una liturgia cosmica per percussioni, sassofono e danzatrice La composizione nasce appunto in forte sinergia con quello che è lo spazio e l'idea anche della partecipazione dell'elemento della danza quindi è una composizione che parla tantissimo con tutte le altre arti è una composizione che si struttura in sette movimenti un richiamo e tre interludi e questi sette movimenti sono tutti dedicati ad un pianeta seguendo l'ordine alchemico dei pianeti quindi da Saturno al Sole e questa liturgia, questa sequenza da Saturno al Sole porta sostanzialmente dalla notte all'alba Ogni movimento è strutturato secondo caratteristiche ben precise numerologiche, caratteriali e anche armoniche di suoni seguendo gli studi di Mario Schneider che associa ad ogni pianeta appunto queste precise caratteristiche Ci sono tre forme d'arte che renderanno questo evento unico poiché la musica, la danza e la scultura sono tutte e tre discipline che coinvolgono il corpo in un modo o in un altro e quindi ci sarà una triangolazione che genererà tridimensionalità volume abiterà lo spazio e si immergerà in quello che è anche l'arrivo della luce perché appunto essendo un evento che avviene durante il sorgere del sole inevitabilmente questo porterà una gran forza una grande energia a ciò che verrà generato Prosegui le Rossini Opera Festival che dopo aver messo in scena le quattro opere che continuano ad essere replicate propone domani, mercoledì 14 agosto alle 16 al Teatro Rossini un ritorno importante a Roff come quello di Ramon Vargas che mancava al festival da oltre 20 anni sarà lui il protagonista del terzo concerto di Belcanto Altra rarità in programma sarà la cantata Il Vero Omaggio che sarà eseguita giovedì 15 agosto alle 16 al Teatro Rossini con il maestro Giulio Cilona a dirigere la Filarmonica Rossini e il coro del Teatro della Fortuna Venerdì 16 e sabato 17 agosto torna Gradara Wine Passion appuntamento ormai fisso dell'estate gradarese organizzato da Gradara Innova e Connubio Divino Il Borgo Medievale si apre dunque per due serate alle degustazioni vinicole con 20 cantine ospiti in prevalenza vini marchigiani e romagnoli ma anche una delegazione di Pantelleria e delle città gemellate con Gradara ovvero la turca Murat Paja e la croata Svet Vincenat E mentre attualmente in corso la settimana da capitale della cultura della riserva del furlo nel progetto 50x50 capitali al quadrato diamo uno sguardo anche a quello che avverrà dal 19 di agosto quando ad essere capitale per una settimana sarà il comune di Mondolfo con focus in particolare sulla musica e sul tramantici festival uno strumento, una storia, una tradizione un evento recente ma che già diventa simbolo a Mondolfo grazie al progetto 50x50 di Pesaro 2024 che in occasione della settimana dal 19 al 25 agosto sarà protagonista di sette giorni tutti da vivere e da scoprire è per noi un motivo di grande orgoglio partecipare a questo appuntamento così importante con un festival che rappresenta la marchigianità Tramantici è nato lo scorso anno con la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere e valorizzare uno strumento popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo la storia artigianale di Mondolfo con produzioni di grande valore conosciute in tutto il mondo e questo strumento è il simbolo di radici identità e tradizioni con cui ci vogliamo presentare ai tanti turisti che verranno a visitare la nostra provincia e il comune di Mondolfo in questa settimana e quindi invitiamo tutti a partecipare sarà un ricco calendario di appuntamenti con concerti di qualità diffusi su tutto il territorio che ci permetteranno anche di far visitare i luoghi più belli e suggestivi di Mondolfo e Marotta dal centro storico al mare saranno sette appuntamenti importanti quindi ogni giorno ci sarà un concerto quindi sia alla sera ma anche concerti all'alba in luoghi suggestivi il chiostro di Sant'Agostino il bastione Sant'Anna a Mondolfo in piazza dell'unificazione al molo di Marotta per quanto riguarda il nostro lungomare quindi sarà un festival tutto da vivere e con uno spettacolo straordinario tutte le sere e aver scelto questa settimana immediatamente dopo Ferragosto con un programma che va a mettere l'accento su una seconda edizione di una scommessa già fortunata nello scorso di un festival di organetto e fisarmonica e credo che sia una scelta molto appropriata perché ha dato più forza quella manifestazione speriamo anche più visibilità e ancora più partecipazione e soprattutto sono sette giorni di grandissima programmazione gratuita di uno strumento che da solo in dialogo con altri strumenti contemporanei rappresenta gran parte del patrimonio musicale, popolare ma anche di alto livello che può essere rappresentato con una scuola marchigiana incredibile sia di artisti che di grandi maestri e che è rappresentata in gran parte anche in questa rassegna e anche una storia di produzione di strumenti che anche a Mondolfo come in altri luoghi della nostra provincia la nostra regione storicamente hanno rappresentato riferimento a livello mondiale e altrettanto appunto l'opportunità di ascoltare uno strumento che da solo è in grado di fare festa grazie alla forza dei mantici che danno il massimo della potenza al suono che è uno strumento che unisce i grandi teatri con la storia dell'AIA o di tanti luoghi anche di campagna dove anche dopo la guerra in mancanza di altro da solo poteva fare festa quindi un grandissimo strumento e siamo felici che Mondolfo nella propria settimana dal capitale italiano della cultura condivisa con Pesero abbia messo questo accento così importante e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo il nostro appuntamento con la prima serata che è in questo 13 agosto alle 21 e 20 vi porta a un focus sulla nuova evento dell'orchestra sinfonica Rossini ovvero il Bel Canto ritrovato terza edizione di questo festival nazionale che si terrà dal 16 agosto alle 21 di settembre e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale anche domattina in diretta alle 7 e 20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dal nostro Paolo Pagnini Si chiude qui invece questa edizione dell'informazione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV Grazie a tutti